allora questa è una pinza un tronchese un coltellino multiuso della finter che ci arriva nella scatola di carta riciclata poi ci arriva in astuccio così allora ci sono istruzioni varie lingue abbiamo anche lingua italiana che sede pinza tronchese maniglia tutto quello che ci serve quanti pezzi ci sono e istruzioni d'uso che alla fine è semplice allora ci arriva questa è la custodia fatta molto bene anche per poter agganciare alla cintura questo si apre e adesso scopriamo che troviamo allora nella marca fineter molto pesante fatto molto bene veramente possiamo anche solo agganciarlo alla cintura poi abbiamo la pinza poi abbiamo il coltello molto affilato quindi attenzione ok poi abbiamo qua la lima apre bottiglie questo possiamo utilizzare come cacciavite varie cose chiudiamo poi abbiamo vera e propria e propria pinza apriamo ecco qua noi possiamo anche tagliare vedete la classica pinza fatta molto bene molto resistente ok poi quando apriamo all'interno qui troviamo incastrati due cacciavite a stella e poi uno normale questi vanno incastrati in vari punti qui qui sopra allora allora noi se possiamo chiudere apriamo solamente questo diciamo se mi riesce ecco qua che è un prolungamento allora possiamo mettere o di lato vedete o di lato se non ci arriviamo dipende da spazi utili e poi anche qui di fronte ok di lato quando c'è spazio più ristretto quindi che dire molto carino fatto molto bene resistente pesante quindi che dire un ultimo prodotto glielo consiglio veramente a tutti ciao